Sì? Domanda. Buongiorno. Nuovamente mi sono confuso sul tema del timore, per favore, dall'inizio della lezione. Chiedo di ritornare al tema del timore e mi sono confuso di nuovo e sono contento con questo. Io cerco di definire da solo il tema del timore. Non so perché devo temere di perdere la connessione con il gruppo, con il creatore. Bravo. Non posso spiegartelo. Cerca in ogni caso di spiegare questo a te stesso. Se il tuo futuro, per quanto ti sia prezioso, si trova in loro, il tesoro è nei loro mani, se tu ti trovi così nella periferia, in qualche luogo, intorno, lontano da loro, però loro anche non ti fanno tanta attenzione a te, che tu arrivi, non arrivi, non importa, o arrivi, stai ardendo, però tu sai, è solo così, è solo per vederli, però non ti prendono in considerazione. E quindi non sei vicino al tesoro. Pensalo. Se questo ti è importante, ti è prezioso per te o no, o che tu fra un po' termini la tua vita corporale e ti sorterrano come un cane, o che tu continui con questo che vedrai il mondo nella tua vita, continuando con l'intenzione per l'adazione, per elevarti a più e più e più dimensioni. Per favore. Allora, il timore deve essere, dai grado materiale, cosa succederà con me? Ricordo come Rabash mi ha detto, cosa succederà con te? Gli piaceva sentirlo questo, fino a che cominci a sapere quando sentirò l'amore degli amici, mi sono sforzato tanto per questo e ancora, vedo me stesso, e un po' in questo, sono disposto a fare tutto per loro. E loro mi diranno, vai in qualche posto, viaggia da qualche parte, qualche bel posto, sulla faccia della terra, e così te la passerai bene lì. Io sono disposto a farlo, sì, perché no? O che io prendo loro per mano, per le gambe, basta che non mi abbandonino. Solo con questo sei connesso col tuo cli spirituale, nel quale tu scopri con lo scopo della vita. Se è importante per te, bene, e se no, no. Cosa ti posso dire? Il timore è qualcosa di molto importante. Questo lavora direttamente sul nostro desiderio di ricevere, direttamente a questo. Il timore è connesso con il desiderio. Desiderio di ricevere, desiderio di dargli, non importa. È qualcosa che noi dobbiamo riempire, con ricezione e con d'azione. Riempirlo. E il timore, a parte sua, è un timore. Se posso riempirlo, riempire il desiderio di ricevere, con ricezione, o il desiderio di dare con d'azione, e il timore è sempre a fianco di questo. Devo svilupparlo, non così semplicemente farlo, ma dobbiamo raggiungere il timore. Questo secondo l'importanza, o che io ricevo, o a chi do, eccetera. Di più pensare su questo. Va bene?